Cari clienti ed amici, il negozio Ceccherini Music in via dei Ginorito in Tuno Rosso a Firenze dal 18 maggio è di nuovo aperto, ma per contrastare il Covid-19 e per il perdurare della fase 2 dovremo fare alcuni cambiamenti. Per quanto riguarda l'orario, saremo aperti da lunedì al venerdì dalle 10 alle 16 con orario continuato e il sabato dalle 10 alle 13. L'ingresso in negozio sarà scaglionato e i clienti verranno accompagnati all'interno dal nostro personale e non potranno esserci più di tre persone all'interno degli ambienti destinati al pubblico. Per entrare in negozio i nostri clienti dovranno attendere il proprio turno all'esterno e a questo scopo abbiamo posizionato dei segnali da rispettare in coda e distanziati sul marciapiede e la vetrina. L'ingresso sarà solo consentito con indosso i guanti e con la mascherina che copra naso e bocca. All'ingresso sarà indispensabile disinfettarsi le mani con l'apposito gel. Gli strumenti, se necessario, si potranno provare con l'assistenza del nostro personale e rigorosamente con i guanti. Gli strumenti a fiato e i microfoni non potranno essere provati. Per ridurre il tempo in coda e in negozio vi consigliamo di chiamarci allo 055 21 0031 oppure mandarci un'e-mail a info-checcherinimusic.com per informazioni preventive e per fissare un appuntamento. Il negozio online è sempre aperto www.checcherinimusic.com con la possibilità di acquistare e fare il ritiro in sede. Ricordate che se non vedete l'articolo che cercate sul sito, scriveteci una mail e sarà nostra cura rispondere in breve tempo nel caso fosse possibile recuperarlo per voi. Ci scusiamo per il disagio che tutto questo comporta, ma è l'unico modo per rivederci. Grazie a tutti per il supporto che ci avete sempre dimostrato nel passato e la pazienza che avrete in questa fase dell'emergenza. È un modo per sconfiggere insieme Covid-19, anche così.